Grazie a tutti. Le maestre restano in silenzio. Fanno scena muta davanti al GIP le due docenti dell'asilo di Venafro accusate di maltrattamenti. Sul piede di guerra i difensori che contestano la diffusione delle immagini, le nostre assistite sottoposte ad una gogna mediatica schifosa. Depositata l'istanza di revoca della sospensione dall'insegnamento, la Procura sta valutando se chiedere il giudizio immediato. Radon in tribunale, siamo ancora a Isernia, il presidente chiude l'archivio e convoca un vertice urgente. L'ARPA ha rilevato la presenza del gas nel seminterrato stamane al Palazzito di Giustizia, riunione con prefetto, tecnici e sindacati. Il punto a firma di incoronata dell'Ellis, Venezuela risorsa. Per il Molise, post sisma facciolla al contrattacco, chi ha gettato fango pagherà. Campobasso 6 a Battista rinnova il CDA in bilico Sabatini e Diniro. Dal Biminale Salvini 6 milioni per i comuni con meno di 20 mila abitanti. Sanità, ricorsi e polemiche Federico Tomasi rassegni con noi al governo. I presidenti non saranno mai commissari. È una scelta politica, Iorio e Frattura hanno fallito. Ma la giunta tira dritto, ieri sera l'incarico al costituzionalista. Sport, Campobasso, trovate le incongruenze sul caso di Francavilla. La società studia come muoversi in appello. Isernia, Pentri, con il morale alto, Silva, vincere aiuta sempre. A Agnonese, con la Izzo, si può fare meglio. Col Cesena, ipotesi, Termoli. Il quotidiano del Molise, picchiata e rapinata in casa, aggressori presi dopo un'ora. Sono due giovani del capoluogo i presunti autori di un episodio all'arancia meccanica. È accaduto in via Montesanto. Brigantini, un padre che comunica. Viminale Salvini annuncia oltre 5 milioni di euro per scuole, edifici e strade. Reddito di cittadinanza sotto la lente della conferenza delle regioni. Maltrattamenti in asilo, le due maestre scelgono la strategia del silenzio. Allerta meteo, protezione civile, possibili nevicate a bassa quota. Trivelle, trovata l'intesa tra Lega e 5 Stelle. Università alta, formazione manageriale in sanità. Via al corso, Campobasso, stop, pregiudizi in psichiatria, incontro di lavoro. Facciolla, dopo l'archiviazione, ora i giudici faranno le loro valutazioni. L'ex assessore, c'è stato un uso politico della giustizia. Boiano, possesso di cocaina e hashish. Cinquantenne, arrestato dai carabinieri. Nei guai, anche un complice. Isernia, Radon, radiazioni ionizzanti nel seminario del tribunale. Chiusi i locali degli archivi. Sport, Campobasso, l'ordine di bagatti, pensieri rivolti solo alla Iesina, Ranelli per sostituire Danucci. Multa di 1.500 euro all'Agnone per sputi da parte di alcuni tifosi all'assistente arbitrale. Città di Termoli, ufficiali, gli ingressi dei nuovi soci, Longo e di Girola. Le testate nazionali, il giornale, vogliono far fuori Salvini. Rischia 15 anni di galera per sequestro dei migranti sulla Diciotti. I grillini provano a sabotargli la legittima difesa. Scontro sulla TAB. Al bambino Gesù di Roma, trapianto riuscito, il piccolo Alex, può tornare a casa. Una storia, lieto fine. Il governo tace sul dittatore comunista. I grillini non si schierano contro Maduro, ex eroe dei 5 Stelle. La vittoria della Cnox Italia, condannata, Amanda, torturata. In TV, Albano e Rock, eccellentano e lento. Sorpresa negli ascolti, il pugliese batte il molleggiato. Il Corriere della Sera, Venezuela, Russia e Cina con Maduro, ma Trump, tratta l'uscita del dittatore. Salvini, mi farei processare. Conte accusa la UE. Non sottoscriviamo decisioni presi dagli altri. Il Tribunale dei Ministri chiede il giudizio scontro nella maggioranza. Alex, trapianto riuscito, il papà farà il medico. Eccolo, in questa immagine, il bambino malato per il quale si era mobilitata tutta l'Italia. La Repubblica, i giudici, processate Salvini. Riesplode il caso della Diciotti. Il Tribunale dei Ministri, le vite prima di tutto, Consiglio d'Europa, politici italiani incitano all'odio. Venezuela, Maduro divide il mondo, anche Lega e Cinque Stelle. Pensioni, 48 miliardi in più per le modifiche alla Fornero. Il conto, nei prossimi dieci anni. Andiamo sul messaggero. Processo a Salvini. Sfida al Senato. Caso Diciotti. Il Tribunale dei Ministri chiede l'autorizzazione a procedere. E lui dice, ci riprovano. La Sea-Watch davanti a Siracusa. TAV, la Lega. Basta con i no. Conte, a Merkel, Movimento 5 Stelle, allarme e sondaggi. Telefonini vietati per alunni e prof. Rivoluzione in classe. La nuova legge sull'educazione civica a scuola. I cellulari dovranno essere lasciati in presidenza. Venezuela, sull'orlo della guerra civile. Maduro resiste e minaccia gli USA. Con lui, Cina, Russia e Turchia. Il sole 24 ore. Pensioni. Chi matura a quota 100 può usarla anche dopo il 2021. Per raggiungere 38 anni di contributi minimi valgono i versamenti IMSS. Reddito di cittadinanza. Prima offerta entro 100 km. Poi 250 e infine in Italia. Le agenzie per il lavoro chiedono un confronto urgente. Decollo difficile. Draghi, più rischi pronti a reagire. Genova, ecco le carte dalla Svizzera che assolvono gli stralli del ponte. Il rapporto è a firma dei periti. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Sono nato pronto. Il polacco acquistato dal Milan si presenta. Leo, la 9 maglia da conquistare. Il centroavanti dice una rete in ogni partita e si va in Champions. Inter, la via per Barella, Nicolò vale 50 milioni. Proposti al Cagliari, meno cash e tanti giovani, ma divisi per più anni. Si cerca l'accordo per giugno. La mia fiorentina ambiziosa. Nessuno vale quanto chiesa in Gazzetta. Con il direttore generale Viola, Pantaleo Corvino. Prima di salutarci, vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11, Molise Sport. Mezzogiorno, Viva la musica. Alle 13 fuori menu. Alle 14 il Tg. Alle 16 Molise Sport. Alle 17.30 Paese Mio. 19.30 Tg. 21 conto alla rovescia. 23 ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.